A partire dal 31 ottobre il pane a Canicattisa era venduto 4 euro al chilogrammo. L'annuncio arriva dai 26 panificatori della città a margine di un confronto. Una scelta dolorosa ma quasi obbligatoria a causa del vertiginoso aumento dei prezzi dell'energia. Alcuni di loro si sono visti recapitare bollette superiori a 10.000 euro. Così si sono ritrovate ad un bivio, chiudere le attività o aumentare il prezzo del pane. Intanto i panificatori della provincia di Agrigento hanno annunciato la loro presenza alla manifestazione regionale che si terrà a Palermo il prossimo 7 novembre. Per quanto riguarda Caltanissetta abbiamo sentito il presidente della categoria panificatori Antonio Amico. Caltanissetta da circa un mese una buona parte dei nostri colleghi abbiamo aumentato il pane. Anche noi abbiamo portato il pane a circa 4 euro al chilo anche se all'inizio abbiamo temporeggiato proprio per questi aumenti per vedere se il governo attuava qualche movimento dove ci poteva venire incontro a questa attività, a questo aumento di questa luce, di questo gas, di queste materie prime. Ma poi alla fine comunque abbiamo capito che non è una cosa di qualche mese e quindi siamo stati costretti a questi aumenti. Mi auguro che questo nuovo governo possa subito adoperarsi per venirci incontro e non solo perché non solo ci aumentano scusate le materie prime come ho già detto ma anche luce e gas e speriamo che possano adeguarsi tutti i prezzi.